ciao e benvenuti in un nuovo video non commentiamo la mia acconciatura da spice girl degli anni 80 90 2000 ma ed è ho preso l'acqua e i capelli non sono più e tutti lisci ma alcuni sono lisci alcuni sono mossi non si capisce più come stanno ed è se non voglio piastrarli e non mi vale piastrarli sinceramente l'attentativa è legarli ma tanto noi oggi parliamo di questa cipria della two face la peach perfect cipria mattificante in polvere libera con infuso di pesca e latte di fico dolce latte dolce di fico sweet fake milk allora prima di tutto effettivamente dice di essere una cipria opacizzante con infuso di pesca allora intanto che la apro vi dico il prezzo 35 grammi vengono 32 euro da sefora vi dico che non so se davvero infusa nella pesca o se ha solo l'aroma ed è di pesca ed è latte di fico dolce ma il fatto è che se un pochino di cipria vi va sulle labbra e poi ve le inumidite sentite davvero questo retrogusto dolciastro non persiste tanto non è normale mangiare la cipria ma se andiamo a facilizzare il contorno labbra può capitare e questo infuso dolciastro lo sentite altra cosa ha un leggero profumo di pesca ok gustosa carina ma ora veniamo alla cipria perché a me interessa che sia davvero opacizzante come dice allora cipria opacizzante traslucida translucent peach whisper allora effettivamente è una cipria in polvere libera poi vedrete anche tutti i test del giorno è una cipria in polvere libera che va ed è io l'applico ad esempio sul contorno occhi ed è con la blender mentre su tutto il viso vado opacizzare con un pennello soprattutto nei contorno occhi e nella zona t perché ho la pelle mista e non va ad alterare il colore ad esempio del fondotinta del correttore va a settare ma non altera ha un effetto opaco ma non farinoso non si vede una volta applicata non la si vede non è di quelle che fa spessore che fa maschera oppure di quelle che durante il giorno altra cosa molto importante sulla zona t soprattutto si mischia al sebo ed è inizia a spostarsi a creare colore e si sposta succede con tante ciprie questa no questo da questo punto di vista è davvero una cipria impalpabile che non fa ed è strato sul viso ma che opacizza davvero a lungo oltretutto se durante il giorno vogliamo ritoccarla ritocchiamo e andiamo a opacizzare di nuovo comunque adesso basta prima prima vi mostro il prodotto perché non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere a proposito quando vi mostro i prodotti io normalmente tendo ad avvicinarmi alla fotocamera però la fotocamera è ancora là cioè c'è ancora più o meno quindi ditemi se quando mi avvicino per farvelo vedere si vede o no credo di sì dallo schermino credo di sì cioè c'è una differenza qui vedo un contenitore se lo avvicino vedo il prodotto però ditemelo voi perché sennò devo fare il close up ma comunque sia ora vi lascio al test della prova su strada ok allora la cipria è questa è pitch perfect mattificante sì cipria libera mattificante allora infatti ve la mostro ma poi ve la faccio vedere ecco la luce naturale è impalpabile sul serio e anche in colore adesso noi andiamo applicarla con spugnetta profumo di pesca ok e poi sul resto del viso con il pennello ok allora così mi piace mi piace tanto bella impalpabile non lascia colore non lascia strato ma adesso andiamo a finire aspettate un attimo va a fissare tutto non fa flashback adesso finisco il trucco e ci rivediamo ok allora questo è il risultato bella perché non c'era noi dobbiamo tenere d'occhio la zona t soprattutto durante il corso della giornata e non guardaremo più di tanto il naso perché so già che a forza di soffiarmelo con l'allergia ovvio che non ce la farà però proviamo con la zona t e anche che non vada nelle pieghette interessante questa cosa allora sono le 12 e 06 e diamo ufficialmente inizio al test allora eccoci qua si sono un po in ritardo effettivamente perché cerco di posizionarmi meglio aspettate ecco così siete fisse 16 e 29 ho la sveglia lì però il nel mentre sono stata fuori in cortile ed effettivamente allora vediamo perché secondo me si è comportato benissimo allora sapevamo che sul naso sarebbe andato via tutto per il semplice fatto che mi soffio il naso sempre di continuo però guardiamo il contorno occhi non è andato nel contorno occhi l'ombretto non ha retto invece però non c'è andato e anche la zona t mi sembra bella mi sembra tutto bello comunque proviamo ma c'è si appena appena guardate qua non si attacca neanche infatti mi è sembrato che un pochino di più nel naso sicuramente nel naso si ma ripeto sono io che ho portato via tutto soffiandomelo così spesso ma neanche tanto Un pochino Però consideriamo che sono passate quattro ore e mezzo cosa che ho notato e che voglio dirvelo perché non so se poi mi ricorderò durante la recensione di dirvelo se la cipria vi va sulle labbra provate a leccare è dolce sa di dolce quindi è carina allora direi che il prossimo aggiornamento è stasera con l'ultimo aggiornamento e vediamo come va ma per adesso va davvero bene eccoci qui allora mancano quattro minuti alle otto quindi direi che possiamo anche finire il test intanto vediamo il contorno occhi si è comportata bene perché non è andata a evidenziare più di tanto quindi si è comportata bene ora vediamo il naso lo stapevamo vediamo il resto cartina alla mano consideriamo che sono otto ore direi che ci sta eh sì un po' ci sta ma sinceramente dopo otto ore avrei pensato molto peggio anche perché nel pomeriggio sono stata fuori quindi un po' il sole un po' l'aria mi aspettavo molto peggio ad essere sincera guardate che tranne la fronte e un po' i lati del naso che però guardandomi sì insomma dovesse uscire non andrei in giro così e ritoccherei però si è comportata bene otto ore ci sta e niente questo era tutto il test stavo sentendo ma no se le labbra non è andato via quindi non si sente neanche più il sapore però era interessante ed concludiamo così ed eccoci qui allora avete visto che è una cipria che si comporta davvero molto bene mi è piaciuta perché comunque sia sulla mia pelle mista si comporta bene perché va a opacizzare e dura davvero a lungo però non va a seccare il viso quindi adatto ad ogni tipo di pelle ed è perché comunque non va a seccare a creare a segnare le imperfezioni o le rughe i segnetti delle contornocchi io soprattutto setto il correttore e la zona attiva l'ho già detto comunque settando non va nelle pieghette non va a evidenziare dei segni molto molto valida certo che ha un prezzo 32 euro ha un prezzo importante per una cipria che comunque sia ho controllato l'inci e non ha neanche silicone sappiamo tutti che i siliconi che ci sono in commercio nei cosmetici sono stra sicuri ma io per correttezza ve lo dico questa cipria non ha siliconi ha solo dei conservanti e delle fragranze perché va bene che i siliconi che sono in commercio nei cosmetici come vi ho già detto sono stra sicuri stra testati e ha passato tutti i test possibili ma se l'andiamo applicare tutti i giorni sette giorni su sette tutti i giorni tutta la settimana magari più volte al giorno abbiamo sul viso tutto il giorno dei siliconi è giusto saperlo almeno a me in tale sa saperlo anche perché io la cipria non la uso ogni tanto la uso sempre e la mia amica sempre soprattutto con il mio tipo di pelle questa abbiamo detto che non ha siliconi ha solo dei conservanti e delle fragranze ovviamente per non alterare la formula è in polvere libera ma non è di quelle che è troppo polverose è fatta con i buchetti quindi basta applicarla sul tappo e altra cosa comoda forse c'era anche un pennellino ma non l'ho visto altra cosa comoda almeno a mio avviso ha questa leggera è qui vedete non è tutto tonda ma ecco si vede così ha questa smaniglietta che volendo quando non arriviamo più a far uscire il prodotto anche perché senza infilarsi negli angoli e tutto quanto giriamo su e abbiamo il prodotto direttamente senza dover andare con le forbici o con una punta sotto come altri tappini facciamo comoda molto pratica molto bella bella anche la confezione molto simpatica con questa pesca e il prodotto in sé è davvero molto valido almeno a mio avviso ha mantenuto tutte le promesse che riceva e quindi io non posso fare altro che consigliarvelo il prezzo se iniziamo a utilizzarla tutti i giorni effettivamente useremo tanto prodotto quindi è un po' da valutare ma è una cipria che assolutamente merita e vale quindi ah cosa che ho dimenticato a dirvi nel contorno occhi con il flash non fa flashback altra cosa molto importante per noi social di tutti i giorni allora fatemi sapere se avete provato questo prodotto se l'avete interessato se vi è piaciuto se lo proverete se vi è incuriosito e fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti spero che sia utile e vi do appuntamento al prossimo video e ora vado a pestarmi i capelli perché davvero non ne posso più ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao